Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi perché bisogna un attimo andare a studiare un po' le tre squadre che sono retrocesse dalla Serie A alla Serie B Video in preparazione nel nuovo campionato di Serie B Farò poi anche ovviamente un video per tutte le squadre, per la squadra che verrà in Serie B, una tra Palermo e Padova Per oggi andiamo un po' ad analizzare tra le tre squadre che sono retrocesse dalla Serie A alla Serie B Chi ha fatto leggermente meglio nel disastro totale di tutte le tre le squadre Poi proverò anche un po' a sbilanciarmi anche se il mercato è appena iniziato E ovviamente la preparazione della nostra stagione deve ancora incominciare Provo già per un po' a sbilanciarmi su quale delle tre secondo me potrà fare un buon percorso Mi raccomando però prima di partire vi devo chiedere un pollice nel suo video E in descrizione al canale ragazzi mi raccomando molto molto importante Iscriviti, è totalmente gratuito e lascia un bel mi piace per supportare i miei contenuti Partiamo ovviamente dicendovi quali sono i parametri che ho andato a vedere E poi come statistiche possiamo dire ho scelto Partite vinte, gol segnati, gol subiti Percentuale di duelli vinti Possesso medio, cross riusciti Passaggi in avanti, passaggi all'indietro Tiri nello specchio Gol dentro l'area, gol fuori area e gol su palla inattiva Sono 12 parametri Vediamo chi ha fatto meglio delle tre in tutti questi 12 parametri Poi alla fine vi vado a dire per l'appunto mi sbilancio un po' E vi vado anche a fare il recap generale su chi ha ottenuto la maggioranza di punti In tutti questi 12 parametri Partiamo per l'appunto da partite vinte Partite vinte vince il Cagliari con il numero maggiore di 6 partite vinte 6 Cagliari, 4 Genoa e anche il Venezia 6 partite vinte Quindi sia Cagliari che Venezia hanno vinto più partite Vi ricordo che la classifica di Serie A è finita quest'anno in questa sequenza Dal diciottesimo al ventesimo posto è finita con Cagliari diciottesimo Genoa diciannovesimo Venezia ventesimo Cagliari trenta punti Genoa ventotto Venezia ventisette Quindi diciamo che ci ha avuto anche poca differenza tra tutte le squadre Però il Cagliari e Venezia hanno vinto più partite del Genoa Però per assurdo il Venezia ha fatto più punti in meno Ma questo complice i 16 pareggi del Genoa e le 23 sconfitte del Venezia Gol segnati Il Cagliari ha segnato trentaquattro gol Il Genoa ventisette Il Venezia trentaquattro Anche qui sia Cagliari che Venezia hanno numeri maggiori rispetto al Genoa Quindi per adesso due punti Due punti per Cagliari e Venezia Punti totali Li ho chiamati io rispetto al Genoa Che per adesso è peggiore in tutti i primi due punti che abbiamo visto Gol subiti Il Cagliari ha subito 68 gol Genoa 60 Venezia 69 Qui spicca invece una maggioranza per quanto riguarda la squadra di Blessin Che subisce 8 gol in meno del Cagliari e 9 in meno del Venezia Comunque è un buon dato in vista anche di un prossimo campionato Dove sicuramente le tre squadre dovranno fare un campionato di vertice Cercare di subire pochi gol Ma non sarà facile perché il prossimo anno sarà una grandissima Serie B E poi ovviamente cercare di farne parecchi Quindi qua primo punto a favore del Genoa Percentuale duelli vinti Cagliari 49% Genoa 48,6% Venezia 48,9% Vince il Cagliari di 0,1% sul Venezia Però possiamo dire che tutte e tre le squadre Se vogliono trovare qualcosa di positivo Nella percentuale di duelli vinti Tutte e tre si avvicinano al 50% Per aver fatto un buon campionato comunque questa percentuale deve avere sempre sopra il 50% Questo vi fa capire anche come queste tre squadre sono retrocesse Nessuna delle tre ha avuto il 50% dei duelli vinti nell'arco di una stagione Nell'arco delle 38 partite Percentuale di possesso palla medio durante una gara Cagliari 48%, Cagliari 44%, Genoa 43, Venezia 42 Qui anche vince il Cagliari Praticamente andiamo a scalare Cagliari che è arrivato al diciottesimo Ha avuto più possesso di una percentuale sul Genoa Che è arrivato al diciannovesimo E due sul Venezia che è arrivato ultimo Veramente vi fanno capire come queste tre squadre Alla fine abbiano fatto Tutte e tre veramente un percorso abbastanza brutto Ma nella sua bruttezza abbastanza lineare Perché il Cagliari 44% in tutta la stagione Il Genoa 43% in tutta la stagione Il Venezia addirittura 42% Il Venezia è quello più vicino addirittura al 39% di possesso palla Vi fa capire che tutte e tre le squadre Sicuramente hanno avuto una stagione complicata E quasi mai hanno avuto il dominio nel gioco Nell'arco di una partita Poi sicuramente questo potrà essere accaduto In qualche partita magari tra di loro O con la Salernitana o con lo Spezia Dove diciamo hanno affrontato gare più abbordabili Per il loro livello Visto che poi per tutte e tre le squadre È arrivata la retrocessione Cross riusciti Pochissimi tutte e tre Addirittura due su tre Non hanno chiuso neanche il campionato Con 100 cross riusciti ragazzi Cross riusciti Il Cagliari 118 L'unica squadra delle tre con più di 100 cross riusciti Genoa 94 Venezia 99 Quindi anche qui il Cagliari ha numeri maggiori Rispetto a Genoa Venezia E rispecchia quello che la classifica alla fine ci ha detto Però il Venezia ha avuto più cross riusciti Rispetto al Genoa che diciamo che ha fatto una stagione veramente disastrosa E anche questo aspetto ragazzi ce lo dimostra Andando avanti su passaggi in avanti La percentuale di passaggi in avanti Questo è un dato importante anche in vista del prossimo anno Vediamo quanto sono state propositive Nel loro disastro Le tre squadre retrocessi in Serie A Cagliari solo il 38% di percentuale di passaggi in avanti Il Genoa 41 Il Venezia 38 Qui qui vince il Genoa Piccola nota positiva Che Blenstein comunque ha cercato di portare una nuova mentalità Una nuova idea di gioco Dedicata al pressing Alla verticalizzazione Però sappiamo tutti che una delle grandi problematiche del Genoa È stata quella di non riuscire a fare gol Però su questa percentuale vince lei con il 41% Ma tutte e tre le squadre non superano Non arrivo neanche al 43% di percentuale di passaggi in avanti Ovvero quanto io vado più o meno a giocare il pallone in avanti Durante tutta la stagione Comunque durante una partita È un dato veramente molto molto grave questo Invece il percentuale di passaggi all'indietro Qui vince la squadra che ha meno percentuale Ha la percentuale più bassa Cagliari 14,5% ed è altissimo Genoa 13,7% Venezia 14,4% Anche qui si conferma il Genoa più brava Si conferma con la percentuale migliore Questo vi dà ancora un più conferma Come Blessing comunque abbia un minimo cercato Di portare aria fresca a livello di gioco A livello di proposizione di calcio Tiri nello specchio Cagliari in 38 partite 124 tiri nello specchio Genoa 115 Venezia 114 Anche qui rispecchia quello che poi la classifica finale ha detto Col Cagliari che ha avuto il dato maggiore Il Genoa il dato medio tra le tre E il Venezia il dato peggiore Con il numero più basso Ovvero 114 Ma poi Genoa e Venezia Molti dati tra di loro sono stati praticamente quasi simili C'è stata sempre pochissima differenza Di uno Di un per cento O di un punto E poi questo va anche Si va anche poi veramente a verificare sulla classifica Perché il Venezia chiude 27 punti Mentre il Genoa chiude 28 punti E vi fa capire Veramente il disastro fatto da queste tre squadre E vedremo queste tre squadre poi cosa faranno in Serie B Col cambiato di Serie B Che sarà di un livello altissimo Però concludiamo con i dati Gol dentro l'area di rigore Il Cagliari 28 Genoa 27 Venezia 30 Qui spicca il Venezia con un dato maggiore Rispetto a tutte le altre tre squadre Pochissimi comunque gol fatti dentro l'area di rigore Ma tutti e tre hanno fatto i maggiori gol Anche se sono stati pochi Ne hanno fatti tutti praticamente quasi dentro l'area di rigore Il Cagliari su 34 Ne ha fatti 28 fuori Il Genoa su 27 Gol segnati Le ha fatti tutti e 27 dentro l'area di rigore Quindi mai un gol fuori aria E il Venezia su 34 gol segnati 30 gol da dentro l'area di rigore Gol fuori aria Cagliari 6 Venezia 4 E Genoa 0 Per l'appunto L'avevamo già intuito con i gol dentro l'area E poi con il rapporto gol segnati Gol da pallina attiva Assurdità questa Genoa e Venezia 0 Gol da pallina attiva Il Cagliari solo un gol E questo ragazzi è un dato veramente clamoroso Tutte e tre le squadre Non hanno mai saputo sfruttare bene Una punizione Un angolo Mai Non hanno mai fatto niente Il Cagliari ha fatto l'unico gol Me lo ricordo anche quella di Altare Nel pareggio 1-1 Salerno contro la Salernitana Una delle ultime giornate Con l'esordio di Agostini In panchina Questo è un dato assurdo Il non fare nessun gol Su palla inattiva Se vogliamo Possiamo anche confrontare Un attimo Con Lecce Che ha vinto Il campione di Serie B Possiamo confrontare Alla veloce due dati Possiamo confrontare Vediamo un po' Percentuale di Di duelli vinti Lecce 51% La percentuale più alta Sia di Cagliari Sia di Venezia Sia di Genoa Perché percentuale di duelli vinti Tutte e tre le squadre Retrocesso dalla Serie A Non hanno avuto Nessuno ha avuto il 50% Cagliari 49% 48,6% Il Genoa E 48,9% Il Venezia Quindi vince il Lecce Per farvi capire Anche un altro dato Cross riusciti 144 in Lecce Mi pare che abbia fatto Più o meno quanto Ha fatto il Cagliari No Il Cagliari su cross riusciti Ha fatto un dato minore 118 Genoa 94 Venezia 99 Se mettiamo anche a confronto Chi sale e chi scende Vedete un po' la differenza Delle due squadre Una ha giocato in Serie A Una ha giocato in Serie B Però per farvi anche Un attimo Un piccolo confronto Poi per appunto Recap generale Punti totali Il Cagliari Ha avuto la maggioranza Su questi 12 punti In 8 In 8 fattori Mentre il Genoa è in 3 Il Venezia è in 3 Quali sono stati I punti a favore del Cagliari Partite vinte Gol segnati Ragazzi Percentuali di duelli vinti Possesso palla medio Cross riusciti Percentuale Tiri nello specchio Gol segnati Da fuori area E gol su palla Inattiva Questi 8 punti Il Genoa ha 3 punti Il Venezia ha 3 punti Però il Venezia è veramente Tolti Partite vinte Gol segnati Solo in una statistica Risulta la squadra Con il numero maggiore Ovvero quella dei gol Dentro Poi per il resto È sempre inferiore È sempre l'ultima Delle 3 Fatemi sapere la vostra Sotto con un commento Se vi è piaciuto Questo tipo di video Mi sbilancio un attimo Chi delle 3 Secondo me farà meglio In Serie B Per me vi dico Prima farà meglio Il Genoa Poco sotto Troveremo il Cagliari E il Venezia Credo che farà Un campionato Da metà classifica O comunque Da raggiungimento Playoff Queste le mie prime Analisi Su queste 3 squadre Abbiamo visto i dati Vi siete fatti un'idea Vi siete fatti un'idea Del campionato Fatto da queste 3 squadre Nel fallimento In Serie A Ovviamente Questi dati Verranno migliorati Sicuramente Il prossimo anno In Serie B Però vi fa capire Veramente Come queste 3 squadre Abbiano meritato La retrocessione Con dati impietosi Fatti nelle 38 Partite giocate Pollice nel suo video Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi